Il pastificio Fabianelli è arrivata a essere di proprietà dell'azienda e della famiglia Fabianelli negli anni immediatamente antecedenti alla Prima Guerra Mondiale. La nostra capacità produttiva si sviluppa su cinque linee che sono in grado di soddisfare qualunque tipo di domanda che il mercato della pasta ci pone in quanto abbracciano l'intera gamma di formati e di specialità che esistono nel mercato della pasta stesso. Uno dei procedimenti più importanti nel processo produttivo della pasta è l'essiccazione. È un'operazione che viene effettuata attraverso l'immissione di calore nelle linee di produzione stesse per permettere al prodotto di asciugarsi completamente ed arrivare quindi al dente nelle nostre tavole. In questo procedimento l'elemento, la materia fondamentale è il gas che nel nostro caso da anni viene fornito da Extra e che è per noi un partner di notevole rilevanze. Buongiorno, sono Marco Coleschi. Sono l'account di riferimento del pastificio Fabianelli e di molti industriali del Centro Italia. Extra da sempre è il fornitore di metano del pastificio Fabianelli. In questi anni non abbiamo soltanto garantito il miglior prezzo di mercato del gas ma abbiamo messo a disposizione tutta la nostra esperienza per risolvere qualsiasi problema inerente alla fornitura. Perché in fondo è questo quello che un cliente si aspetta.